Perché la testa sul manuale del Saint Speer rappresenta la testa di Navlan prima dell'operazione Esatto, volevo dire prima che... E abbiamo un video che prova questa teoria che caricheremo in mezzo oppure dopo... O non lo mettiamo proprio, però dovete creerci sulla parola Che prova l'esistenza di questo Navlan prima dell'operazione E c'è scritto anche se leggete negli incantesimi solo è proibito No, ma se voi leggete la descrizione di solo è proibito scoprete che Navlan E questo non dico che è vero perché è una nostra teoria che sono vere comunque Ma perché avevo scritto nel gioco, prima era stato giustiziato con le... E' stato registrato, e quella Navlan con lo sverato Era pelato come quella roccia, ragazzi Quando suonava la chitarra e dicevo, il suo villaggio è stato trucidato Perciò c'è poco da fare Non decidete voi, dove cazzo? Non decidete voi, dicevo, è scritto proprio lì Perciò quella testa di Navlan Dicevi, continua Hai idea per la Saint Speer La Saint Speer dovete fare l'attacco con R3 Nella Saint Speer Toccare perfettamente con i capelli della roccia L'araldo dello smeraldo Che ovviamente c'entra nell'or, lo abbiamo già spiegato Guardate i nostri video precedenti Toccare con la testa, con i capelli Che non ha Ce li ha però in realtà non so se ti programma dal gioco Cioè c'è l'output di danno però La testa dell'araldo E ovviamente ci sarà un piccolo bug, un piccolo lag Perché trasmette i capelli dell'araldo Cioè i capelli della strega Sulla testa Cioè è spottato solo Cazzo E toccare Araldo correre Fare tre giravolte E buttarli Buttarli però con l'attacco in salto della Saint Speer In questo modo rimarrete volteggiato a tre aria Scusate a mezz'aria E a mezz'aria E vedrete questo occhio di Siv sotto l'araldo Questo prova che Quello che abbiamo detto nel video precedente Ora parliamo della nostra teoria di Navlan Navlan Cos'è che non abbiamo detto? Cosa ha preso Navlan prima? Non l'abbiamo visto Ah aveva preso tipo Quello cazzo di 10% di batteria rimanente Dobbiamo fare in fretta C'è pure il 3G Allora Navlan Cosa ha fatto? Ha preso questa cosa Alvia Allora Manu hai perso tutto Noi siamo in top 32 Allora Questo era spam Seguitevi verne la croce su Twitter Allora Top 32 Italia Team Pro Game of Legends Platinum 2 Allora Navlan rubò da Sebacuno Maiku Un disco Un disco in isolazione Per Dark Souls 2 Giocandolo Però Vendrick lo punì E quindi Alvia Trocì dal suo villaggio E lo trasforma in quello che è Abbiamo la prova Da questo Lo stesso Sabaku Che lo conferma Nella sua pagina Facebook Dopo che Ferri Inverremo questo video a Sabaku Così lui potrà commentare E confermare la nostra teoria Esatto Esatto Vieni da ridere perché Sembrato quanto così assurdo E voi se pensate che è assurdo Però noi ridiamo perché noi sappiamo la verità Voi no Voi no Se voi unite Le lettere centrali Di ogni parola Che ha detto Renzi Merda Che ha detto Renzi In inglese I video Che sono stati ovviamente modificati Da Navlan Video che c'erano su Youtube Dell'inglese di Renzi La parola La lettera centrale Unite tutte le lettere centrali Cosa c'è poi? Esce scritto Che altro non è Che il grido che fa Navlan Quando lo ammazzate Esatto Tutto quanto collegato Vabbè ragazzi Poi nel prossimo video Faremo il gran video E spiegheremo perché Gwyn Non possiamo dirlo No non possiamo dirvelo Però Dovete vedere il prossimo video Assolutamente Aspetta Con questa domanda Vi lasciamo con questa domanda Allora Che schifo Dio Fai il video Allora Comanda finale Allora Con la chitarra E Navlan con la chitarra Oh cazzo Vabbè Allora Seven Up Non è registrata Quella di prima vero? Cosa? No non l'ho detto Vabbè comunque E ragazzi L'ultima domanda Cosa hanno in comune Sif Che ha qualcosa in comune con Navlan Come abbiamo dimostrato E Isalit Pensateci bene Pensateci bene E se leggete Isalit al contrario Cosa esce? Bisogna la lezione Welcome back to Finland imi domanda a fare come un' comune Sifrì come un' comune Come un' comune